E' il prossimo a te sarò, solo mai ti lascerò, sono nato rossolero, da bandito morirò. Ben trovati vicino a soneri, ben trovati, buongiorno, ma che bella giornata oggi. Vedete questo sole che splende nel cielo, queste farfalle che sbolazzano e queste stelline che brillano di qua e di là, anche se con la luce non si vedono, ma ci sono, ci sono, ci sono. E sono le stelle del Milan, le stelle che hanno espugnato il Santiago Bernabeu con un 3-1 che poteva essere un 4-1, che poteva essere un 5-1, un Milan spaziale galattico, fantasmagorico, stupendo. Che goduria, ragazzi, che goduria! Mi sento meglio dopo aver detto che goduria un miliardo di volte. Sì, perché ragazzi, diciamoci la verità, ditemi in quanti avevano puntato anche solo un euro sulla vittoria del Milan. Ve lo dico sinceramente, io per primo non ci credevo, perché comunque il Milan ultimamente, come dire, è troppo attalenante, troppi casi, casi Leao, casi Calabria, casi di qua, casi di là. Però dentro di me ho pensato, e questo ve lo posso dire perché non ci sono veli tra me e voi che siete la mia splendida community, ho pensato, però mi sembra di rivivere o avere delle vibrazioni simili a quelle che ho avuto prima di Milan-Inter. Chissà che si possa ripetere una sensazione del genere. Poi dicevo, vabbè, ma queste cose non succedono due volte. Invece, invece, possibilmente, è possibile giocare sempre solo contro Real, Inter o queste squadrone qua che in Milan inizia a tifra, fa vedere veramente di che pasta è fatto. Poi ragazzi, voi, cioè io vi capisco, io capisco chi mi segue sul canale. PS, se non l'avete fatto, iscrivetevi, voglio arrivare 10.000, per favore. Io capisco chi mi segue sul canale, che a volte mi dice, ecco, sali sul carro, scendi dal carro. Signori, qua non è che è una questione di salire e scendere dal carro. È una questione che i video sono altalenanti esattamente come è altalenante il Milan. Perché a me, dopo aver goduto come un riccio, questa prestazione del Milan di ieri mi fa ancora di più incazzare. Ragazzi, mi fa più incazzare. Perché questa è l'ennesima prova dimostrativa. Io non voglio fare il fenomeno, ma ad agosto ne ho azzeccati un bel po' di pronostici fino adesso. Dicevo, occhio che Tiago Motta non mi sembra questo grandissimo allenatore, nel senso che è un grande allenatore sì, ma tende a far troppo il protagonista, troppo il professorone. Infatti, sta succedendo questo con le partite. Occhio a Ken, perché Ken alla Juve non ha fatto bene, alla Fiorentina sta diventando un grande calciatore e Ken che continua a segnare. E dicevo del Milan, guardate che il Milan è una squadra forte. È una squadra forte. E tutti, chiaramente, quando il Milan va bene mi dicono hai ragione. Quando il Milan va male mi dicono non è vero. Ragazzi, il punto, il dato di fatto è uno. Il Milan è una squadra forte. Il Milan deve riuscire a mettere da parte, esattamente come ho detto un paio di video fa, dove la gente mi dice ecco tu ancora ci credi con questa dirigenza dove vogliamo andare. Allora, che noi abbiamo una dirigenza che è pessima, lo sappiamo tutti. Lo so io, lo sai tu che mi guardi, lo sai anche il cugino, il tuo cugino che non mi guarda, ma che hai un cugino, lo sa anche lui che la dirigenza del Milan è pessima. Ma la squadra rimane forte. Per tutta una serie di motivi. È una dimostrazione aver battuto 3-1 il Real Madrid a casa loro. È una dimostrazione aver battuto i campioni d'Italia, quindi i campioni d'Europa, i campioni d'Italia. Il punto è che il Milan, essendo una squadra giovane, essendo che è arrivato un allenatore che non ha il pedigree del grande allenatore, fa fatica a farsi ascoltare. Ora, se il Milan, dopo la partita di ieri, capirà che fosse, che sotto sotto forse qualcosina lo capisce, perché, signori, diciamocela tutta, la scelta di Musa come rinforzo per Emerson Royal è stata azzeccatissima. Il Milan che giocava col 5-3-2, posso che noi tanti l'abbiamo sempre detto che il Milan deve giocare col 5-3-2, ma, vabbè, questo è un altro tipo di discorso. Fonseca dice, giustamente, che il modulo va piazzato a seconda di contro i cui giochi, però questo 5-3-2 ha, scusate, non 3-5-2, 5-3-2, ha bloccato Vinicius e Mbappé, signori, non esattamente Castrovilli e, che cavolo ne so, e Pignatone, con tutto il rispetto. Vinicius, clamoroso e escluso dal pallone d'oro, e Mbappé, pallone d'oro passato, giocatore immenso. Che poi voi mi veniate a dire, eh, ma come alla Cardani, eh, ma al Real Madrid è uno dei... ha preso quattro peli dal Barcellona, signori, non diciamo cazzate, tutti qua siamo venuti a giocare al Bernabeu sapendo che avremmo avuto poche possibilità. Il Milan ha fatto una partita fantastica e l'ha fatta anche Emerson Royal, nonostante quel rigorino che ha concesso, perché ha fatto una mini sbavatura contro, appunto, Vinicius, che, scusate, se è Vinicius e non è esattamente il primo scappato di casa che incontrava. Quindi, Milan, perfetto. Unica nota negativa? Perché c'è una nota negativa in tutto ciò. Poi andiamo sui singoli che hanno fatto veramente una partita meravigliosa, che meritano di essere messi sull'altare. L'unica nota negativa è Abram. Ve lo dico sinceramente, Abram, quando è entrato in campo, è entrato lento, macchinoso, impacciato, non teneva un pallone, ha fermato due nostri contropiedi, se fosse stato Celere, probabilmente il risultato sarebbe stato ancora più grappoloso, ancora più succoso, ancora più trabordante, tutti i termini inventati, ma fa niente, per indicare che col 4-1 era più bello aver vinto, però anche col 3-1 mi accontento, diciamolo così. Però Abram è stata la nota un po' meno positiva rispetto a tutto il resto. Per il resto, se Loftus non si mangia il gol, se Rafa, quelle due incornate e Lunin, non avesse fatto due miracoli, perché, ragazzi, ora andiamo sui singoli. Mignon, votato MVP della partita, strepitoso, partita strepitosa, ma Lunin, che comunque ha preso tre gol, ha fatto altrettanti miracoli su Leao, ha fatto altrettanti miracoli su Loftus, quindi Lunin, dall'altra panca su Reinders, Lunin, di là, grande partita anche lui, eppure il Milan ne ha fatti tre, il Milan ha fatto una partita meravigliosa. E poi arriviamo alla scelta che voi dovete fare e che io farò. Secondo voi, qui si apre un dibattito che non avrà mai fine, un po' come quando si chiede se sia nato prima l'uovo o la gallina, dibattito che non avrà mai fine. Ha fatto bene Fonseca a lasciare fuori Leao due partite per fargli poi maturare questa prestazione di oggi e fargli capire che Leao oggi, ragazzi, doppia fase in continuazione, dietro, davanti, davanti devastante, dietro a coprire, perfetto Leao, poteva fare gol, poteva farne anche un paio, se ne mangiate anche un paio, soprattutto nel secondo tempo ha fatto due ripartenze, che probabilmente, ragazzi, era stremato, ma poteva fare anche un paio di gol, e quindi ha fatto bene Fonseca a tirarlo fuori e lasciarlo fuori per fargli fare questa partita, oppure Fonseca deve chiedere scusa a Leao di averlo lasciato fuori fino adesso, perché se avesse giocato le altre due partite Leao probabilmente il Milan avrebbe vinto altre partite e non avremmo avuto questi casi nelle partite appena trascorse. Fatemi sapere voi come la pensate e mi raccomando, tra un paio d'orette attivate la campanellina perché ci sarà da divertirsi con anche i gol fuori onda, con il registrato fuori onda di quello che è successo per questo Real Milan. 1-3, un Milan iper-mega-galattico!